Musica Sappiamo tutti che Warzone è a tutti gli effetti un gioco molto molto pazzerello Ogni tanto infatti esce qualche fucile ad assalto con qualche mania di protagonismo che vuole imitare una mitraglietta Vediamo un piccolo esempio il FAR Chi mai ha utilizzato il FAR realmente come fucile ad assalto? Voglio vedere le mani alzate C'è nessun altro! Ok ora che abbiamo constatato che nessuno ha alzato la mano Ricolleghiamoci con il discorso iniziale Ogni tanto escono queste armi, fucile ad assalto Che se trasformati in mitraglietta diventano delle vere e proprie bestie In questo video andremo ad utilizzare il fucile ad assalto Wolf's Garden O buffamente chiamato da noi Volkswagen Perché effettivamente è molto più semplice da pronunciare Abbiamo trasformato questo fucile in una mitraglietta davvero devastante Infatti vi lascerò la classe all'interno del video e voglio sapere da voi cosa ne pensate Vi lasciate un bel like, un commentino Se non avete fatto iscrivetevi al canale Provate quest'arma, fatemelo sapere mi raccomando come vi siete trovati Bella raga Ehm, ce ne sono un paio che vanno viste dentro il buco Vabbè ma sono andato solo qua Voi la generata è Gianna? Sì Buongiorno Buongiorno Ok Non sembrano cordiali Non mi hanno fatto con le spade Non mi hanno fatto con le spade Io sono cambiato un attimo un posto bro Minchia come lagga questo Vado vado Non ci credo che ho smirato di un centimetro Voglio che sono Uno one shot qua da me Eh l'ho fatto l'ho fatto Altri sopra qua da me Allora C'è un soldato nemico con te con 11 colpi c'è anche da paura no ma non l'ho sentito grazie è impossibile che sono finiti li avete fatti tutti questi qua sopra e ora c'è gente dietro qua qua sul ponte no 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 Fattelo, fattelo Ah, non lo so, non lo vedo